Salve a tutti, oggi parliamo del Cisco Call Manager Express versione 8.6 In particolare andiamo ad affrontare l'argomento della deviazione di una chiamata entrante da rete telefonica pubblica verso un ulteriore numero di rete telefonica pubblica. Succede spesso che alcune aziende hanno la necessità della continua reperibilità telefonica del proprio personale tecnico. Ciò significa che nel caso in cui nessuno risponda in tempo utile da un specifico interno aziendale, in particolare le chiamate provenienti da clienti importanti, tali chiamate dovranno essere deviate verso un specifico numero di telefono mobile o fisso tramite il quale sarà possibile raggiungere il personale di servizio. Nella descrizione di questa procedura di base assumeremo che stiamo usando un router con installato il Cisco Call Manager Express versione 8.6, un'interfaccia ISDN BRI, il protocollo SIP abilitato, un telefono SIP e siamo in grado di accedere al router tramite telnet o tramite la porta console. In questo esempio useremo un interno aziendale 130. Andiamo ora a vedere la definizione della configurazione di queste funzionalità. Prima di tutto occorre definire un entry nella rubrica del Cisco Call Manager Express e quindi inserire tutti i suoi parametri. Entriamo in Configuration Terminal con il comando CONF-T, definiamo una directory entry 30 con il comando VoiceRegister DN30, definiamo l'interno 130 con il comando NUMBER130, se entro 5 secondi non si risponde all'interno 130, la chiamata verrà deviata verso il numero PSTN 0292781. Per fare ciò occorre inserire i comandi CALL FARWARD BACK TO BACK USER AGENT, NO ANSWER 0292781 TIMEOUT5. Associamo un nome alla directory entry 30 all'interno della rubrica del Cisco Call Manager Express, in questo caso support. Andiamo ora a definire il trentesimo telefono SIP e lo registriamo nel Cisco Call Manager Express con il comando VOICEREGISTER POOL30. Associo il MAC ADDRESS del telefono, che di solito è riportato alla parte posteriore del telefono stesso, in questo caso il comando sarà IDMAC001A.E80C.A5B9. Associo alla linea 1 di questo telefono, la voce di rubrica precedentemente definita come 30, con il comando NUMBER1DN30. Imposto una USER e una PASSWORD, che devono corrispondere con quella precedentemente impostata all'interno del telefono. Il comando sarà USERNAME130, PASSWORD130. Imposto una descrizione, è utile per capire velocemente di quale telefono si tratta quando si leggono lunghe configurazioni. Il comando sarà DESCRITION, in questo caso SUPPORT. Andiamo ora a verificare come si comporta realmente il Cisco Call Manager Express con le funzionalità precedentemente impostate. Dirottiamo tutti i messaggi di sistema sulla corrente della sessione di TELNET tramite il comando TERM ON. Impostiamo il DEBUG delle chiamate entranti e uscenti dalla linea ISDN, con il comando DEBUG ISDN Q931. Tramite il cellulare faccio una chiamata a questo Call Manager. Il mio cellulare in questo momento è il 333-222-4489. Vedo la chiamata in arrivo attraverso la linea ISDN BR110. La chiamata in arrivo al cellulare cerca l'interno 130. Il Cisco Call Manager Express predispone il comando di segnalazione ALERTING, quindi l'interno 130 squilla. Passati 5 secondi, il Cisco Call Manager Express inizia la nuova chiamata usando come chiamante il numero esterno. Da notare che per effettuare questa nuova chiamata il Cisco Call Manager Express utilizza una nuova linea ISDN disponibile. In questo caso l'ISDN BR000. Un'ulteriore conferma che il numero chiamante è il cellulare in attesa. Il numero qui chiamato è quello precedentemente definito in caso di mancata risposta, cioè 0292781. La conferma che questo numero sta squillandolo si vede dal messaggio Rx ALERTING. Dopo due messaggi di segnalazione di connessione si ha la conferma della venuta connessione. La conversazione è inizio e dopo circa 3 secondi la conversazione termina. Il CCME rilascia la chiamata dal chiamante. Il CCME rilascia la chiamata verso il numero PSTN esterno, cioè il chiamato. Le chiamate terminano con successo.